Questa sera la Lavorale propone il Requiem Indominore dei Vici Perubini. Il grande è articolato in sette pezzi, Introvatus, Graduale, Diessie, Offertorium, Santus, Pire Jesu e Agnus Dei. Concluderemo con un Gloria, simbolo della luce di Cristo che vince sulla morte. Il Gloria, il primo movimento dal Gloria, aveva pensato in questo 589 di Divandi. Prima di lasciare la parola alla musica, la parola ci tiene a ringraziare la Cio Contratenita, il priore, il governo, tutti i confratelli, per la calorosa accoglienza. Un ringraziamento anche alla nostra questa dentro al calcio per essersi resa tramite con la Cio Contratenita per la realizzazione di questo concetto. Un sentito grazie a voi tutti per essere intervenuti questa sera. A voi, la parola di Sant'Oriere Tauro, accompagna al traforte il maestro Lera Somma, dirige il maestro Roberto Attini. Buon aspetto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.